Ehi là, ciao a tutti, mi chiamo Giovanotti, sono un disgiochi da discoteca, mi hanno proposto di fare questa esperienza qui di DJ Television e naturalmente mi sono tuffato e ho accettato al volo perché potete capire, tra l'altro oggi sono particolarmente contento perché oltre ad essere il mio debutto, è il mio debutto con Video Dance, quindi un argomento che mi si addice particolarmente e Video Dance vuol dire DJ Pareto